Ho sempre detto che quella espressione, stiamo seminando la rinascita, pronunciata dal sindaco Melucci, è una grande puttanata, intendendo per puttanata una chiacchiera, una favola che viene raccontata ai cittadini di Taranto. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Siamo in piazza Ebalia, sul lungomare di Taranto, una zona favolosa che dovrebbe far innamorare i turisti. Guardate le condizioni penose, vergognose, in cui si trova la fontana, ridotta ad una palude, ad uno stagno con l'acqua sporca e stagnante. La fontana è spenta e guardate qui questa acquitrino, la sporcizia. Guardatela, prego il nostro operatore di seguirmi. Guardate gli insetti, guardate i girini e anche lì, proprio nell'angolo, sul bordo, un animale morto. Lo vedete? Un piccione morto. Eccolo qui, che ristagna da giorni e giorni. Guardate anche gli insetti, i girini, insetti, animali di non meglio precisata natura. Questa è la fontana ridotta in uno stato di melma. E tu Melucci, tu vice sindaco Manzulli, avete il coraggio, il barbaro coraggio, l'indecenza di venire a dire che state seminando la rinascita. Ma quale rinascita? Quali puttanate state raccontando ai cittadini? Perché di puttanate si tratta, raccontate. Qual è la rinascita? Questa è la rinascita. Cittadini di Taranto, turisti, dovete vederlo. E io vi dico queste cose. Qualcuno può pensare, ma tu vuoi il male di Taranto? No, voglio il bene di Taranto. Perché i problemi vanno evidenziati, perché la polvere non va nascosta sotto il tappeto, ma va evidenziato lo stato di abbandono in cui versa la città. Guardate, una piazza, una fontana che dovrebbe essere favolosa, meravigliosa, ridotta ad un acquitrino con gli animali morti che galleggiano. Ma che immagine diamo ai turisti? Oltre ovviamente il quadro penoso per noi cittadini che ci viviamo, ma il turista che vede, che pure rimane innamorato dalle bellezze di Taranto. Ma che immagine si fa? Vedete dei giovani, delle persone che stanno passando. Da dove venite? Da Catania, bellissima Catania. Però una bella città a Taranto. Guardate il degrado. Sì, infatti stavamo notando proprio questo, peccato, perché l'impressione quando noi siamo scesi dalla nave, da crociera. Io conosco Catania, piazza Stesicoro, fantastica. Lì c'è l'anfiteatro. Qui abbiamo a Taranto l'anfiteatro non portato alla luce, ma sommerso, ricoperto dall'asfalto e adibito a parcheggi, per dire. Ma vedere una fontana del genere... Infatti è un peccato, perché veramente potrebbe essere... Purtroppo a volte ci sono determinate bellezze come questa che non vengono abbandonate. Vengono abbandonate, esattamente. Beh, buona vacanza. Grazie, grazie. Una bella città. Ecco, come vedete, caro Manzulli, tu parli di sentiment nei confronti dei turisti. Quale? Il turista viene e dice, sì, Taranto è una città bellissima, ma maltrattata da voi amministratori, rovinata da voi amministratori, perché questo è un danno che voi state facendo all'immagine di Taranto, ai turisti, perché il turista cammina e vede lo schifo e vede la merda di questa piazza, la merda in cui si trova e non vi scandalizzate. Facciamo rivedere le immagini, facciamo rivedere l'animale morto. Guardate, qui sotto, in una piazza, in una fontana, guarda, guarda, Melucci, Manzulli, non è che l'ho ammazzato io il piccione e l'ho buttato nell'acqua, no, non penso. E non penso che questo acquitrino che sta da giorni, giorni, settimane, settimane. Guardate lì la melma, guardatela lì, guarda Pino, il nostro operatore che, poveretto, si deve subire pure la puzza che emana, che promana da questa fontana. Bene, una fontana spenta, un'immagine, un pugno in faccia dinnanzi ai turisti e l'avete visto la signora che veniva da Catania. Guardate, Piazza Ebalia è diventata un deposito, un luogo in cui si raccoglie quanto abbandonato dall'amministrazione comunale. Qui guardate un basamento in cemento su cui c'era il pannello dei giochi del Mediterraneo e più avanti delle transenne, guardatele lì, abbandonate, depositate, neanche fosse un ripostiglio. Ecco la dignità che l'amministrazione Melucci nega a Taranto, in una zona splendida. Vergogna! E per completare il degrado di Piazza Ebalia, guardate come tutto intorno il manto stradale è assolutamente disastrato. Buche, rattoppi, mancano persino le strisce pedonali, quelle che ci sono sono scolorite, non sono state tinteggiate, ma tutti questi rappezzi, qualcosa di immondo, di osceno rendono davvero l'aria impraticabile. Eppure parliamo di un punto, come detto ripetutamente, fantastico. Non ho altro da dire. Penso che i cittadini di Taranto abbiano capito che questa espressione, stiamo seminando la rinascita, è solo una puttanata, una presa per il culo sulle spalle dei cittadini italiani, dei contribuenti che pagano fior di quattrini in termini di tributi locali.